Sì, quella che vedete è una pista da skateboard e sì, il luogo in cui è installata è la triennale di Milano, uno dei principali luoghi espositivi della città, storico tempio dell'architettura e del design. Si tratta non di una follia improvvisa dell'istituzione guidata da Stefano Boeri, bensì del primo capitolo di Play, un progetto dedicato al tema del gioco che si svolgerà in triennale nel corso dei prossimi 12 mesi. L'idea nasce dalla volontà di mettere in discussione anche il ruolo delle istituzioni culturali nella città e nel contesto di produzione artistica del contemporaneo e internazionale e quindi l'idea di utilizzare il gioco come strumento di ripensare la partecipazione del pubblico all'interno di uno spazio espositivo. Il primo episodio è uno skate park progettato dall'artista coreana Koo Yong Ha che ha immaginato questa grandissima stella verniciata con una vernice fluorescente e con una musica di sottofondo scritta e composta da Corless che è un producer inglese che interagisce con il suono degli skate sulla pista. Lo skate park oltre che un momento di riflessione sull'idea seria del gioco vuole che stimolare nel visitatore, vuole anche stimolare nel visitatore una partecipazione fisica e mentale dello spazio e vuole sfidare le dinamiche relazionali tra uomo e oggetto, tra individuo e collettività.